Ma perché e come è scoppiata la prima guerra mondiale, cioè quella guerra che fu la prima a coinvolgere non soltanto le potenze europee, ma anche potenze non europee, come per esempio gli Stati Uniti d'America. Anche se, per la verità, questa prima guerra mondiale fu una guerra essenzialmente europea, che nasceva da conflitti specificatamente europei, e però poi prenderà una direzione globale. Questa prima guerra mondiale viene anche indicata dai libri come La Grande Guerra, nel senso che prima di essa non c'è stata nessuna guerra paragonabile, perché è stata la più grande per cifre, per numeri di morti, per paesi coinvolti, e per ovviamente devastazione e conseguenze, fino a quel tempo, semplicemente inimmaginabili. Cercheremo quindi di analizzare in questa video-lezione le cause e motivo dello scoppio di questa prima guerra mondiale. Le cause possono essere in qualche modo ascrivibili all'imperialismo, alcune strettamente legate a questo fenomeno, altre una conseguenza di alcune idee dell'imperialismo. Innanzitutto andiamo su situazioni specifiche, cioè rivendicazioni revanchiste della Francia sulla Germania. Era ancora vivido nei francesi, ricordo dell'Alsazia-Lorena, che era passata appunto sotto reggemonia tedesca. E quindi la Francia in qualche modo voleva riprendere questa regione per lei fondamentale. Ma sicuramente diretta conseguenza dell'imperialismo è la politica aggressiva di Guglielmo II, imperatore appunto di Germania. Perché l'imperialismo ha tra le sue caratteristiche questa volontà di potenza delle nazioni, in questa politica estera aggressiva, per cui come la Francia appunto, abbiamo detto prima, voleva riottenere un territorio che gli era stato tolto, allo stesso modo Guglielmo II voleva dimostrare che la Germania non era soltanto una delle più forti nazioni europee a livello economico, ma anche a livello politico. E ovviamente quando parliamo di livello politico parliamo anche di livello militare. Per cui Guglielmo II, abbiamo detto in un'altra video-lezione, abbandona l'equilibrio, almeno in politica estera, di Bismarck, questa politica appunto di equilibrare le forze in campo che si è vista nel congresso di Berlino, e si lancia in una serie di operazioni molto rischiose. Tra le crisi regionali che vedono appunto coinvolte Guglielmo II c'è sicuramente quella del Marocco, le due crisi del Marocco, momento in cui appunto nella Baia di Agadir si è rischiato il conflitto tra la Germania e la Francia stessa. In quel momento Guglielmo II ha, in cambio anche di alcuni territori africani, ha rinunciato a difendere appunto questo sultanato del Marocco, ma se non era questa zona del mondo particolarmente calda, sicuramente i Balcani erano un'altra regione in cui neppure il congresso di Berlino era riuscito a portare la pace. Certo, in quel congresso furono decise tante cose importanti, in qualche modo furono bloccate le mire espansionistiche della Russia sui Balcani e quindi ovviamente sul Mediterraneo, fu data l'indipendenza allo Stato della Serbia, Bosnia e Herzegovina finirono appunto all'interno dell'egemonia, sotto l'egemonia dell'impero austro-ungarico, ma la questione non fu risolta. In un precedente video infatti noi abbiamo parlato della polveriera balcanica, perché effettivamente se erano state poste, diciamo, delle soluzioni ad alcuni problemi non tutti i problemi erano stati risolti e anche quelle soluzioni che furono trovate in quella circostanza si rivelarono soluzioni a tempo. Sicuramente quindi l'imperialismo trova una delle più naturali conseguenze in questa corsa agli armamenti, perché naturalmente l'imperialismo prevede, come abbiamo detto prima, non soltanto una politica essere aggressiva, ma la volontà di prevalere sulle altre regioni e quindi sulle altre nazioni, la volontà di discutere o meglio di risolvere con le armi conflitti che sono anche molto lontani fisicamente, geograficamente, dal luogo dove appunto nasce questa volontà di potenza, pensiamo alle crisi appunto marocchine. Eppure una delle caratteristiche essenziali dell'imperialismo è proprio questa corsa agli armamenti, perché una nazione che vuole essere potente politicamente e aggressiva in politica estera non può che farlo senza avere una flotta molto forte, un esercito molto forte. E la flotta di Guglielmo II stava diventando una flotta particolarmente forte e rischiava naturalmente di rivaleggiare con la famosa e potente flotta britannica. Ecco che quindi questa corsa agli armamenti, questa necessità di scommettere sull'industria pesante, quell'industria che doveva appunto produrre queste navi da guerra e non solo, ma anche altri strumenti per la guerra, ecco questa corsa agli armamenti fu una caratteristica che si diffuse non soltanto in Germania, ma naturalmente anche in Gran Bretagna, dove questo potenziamento della Germania faceva sicuramente paura. e ovviamente di rimbalzo anche alla Francia. Quindi si assiste, tra la fine dell'Ottocento e prima del Novecento, a questa corsa verso eserciti e marine sempre più potenti. In tutta questa situazione che noi abbiamo analizzato da un punto di vista politico, economico e strategico, e questi tre elementi si intrecciano ed è difficile considerarne uno senza prendere in considerazione anche gli altri, sicuramente un altro elemento importante è il nazionalismo, cioè questa cultura, se così vogliamo chiamarla, che si diffondeva, si era diffusa appunto già dalla fine dell'Ottocento e anche nei primi del Novecento, che era in qualche modo figlia di quell'imperialismo che appunto presupponeva una gara tra nazioni. Il nazionalismo, abbiamo detto, di fine dell'Ottocento, prima del Novecento, è ben diverso dal nazionalismo di prima dell'Ottocento. Quello era un nazionalismo che aveva come scopo l'indipendenza da un altro Stato e il raggiungimento quindi di una forma di Stato in azione importante. Il nazionalismo invece di fine dell'Ottocento si caratterizza proprio per questo atteggiamento aggressivo e ha ovviamente in comune con l'imperialismo questo non celato razzismo. Considerare appunto alcune nazioni più importanti delle altre e alcuni popoli, alcuni continenti più importanti degli altri, queste idee appunto cominciano a serpeggiare nei paesi europei. e queste idee servono anche per compattare il paese, la famosa nazionalizzazione delle fabbriche, cioè bisognava compattare il paese perché tutto il paese, non soltanto una parte, era stato attaccato da un nemico che queste nazioni dovevano comunque costruirsi. Il nazionalismo appunto cresce, si fomenta da questa paura dell'altro. da questo sentirsi costantemente accerchiati come appunto sarà per la Germania di Guglielmo II e quindi la necessità di difendersi e a difendere l'intero paese dovevano essere tutti, tutte le persone, tutte le persone appunto che vivevano in quel paese, nessuno escluso, quindi anche gli operai che probabilmente erano di idee socialiste, quindi facevano riferimento più agli ideali dell'internazionale socialista piuttosto che agli ideali del nazionalismo che ovviamente è esattamente l'opposto di un'idea trans-nazionale come poteva essere l'idea socialista. Ed ecco che nella situazione che abbiamo delineato nella slide precedente, una situazione che caratterizza gli ultimi decenni dell'Ottocento e il primo, i primi due del Novecento, ecco che le nazioni cominciano a unirsi tra loro. Da una parte abbiamo la triplice alleanza nel 1882 la Germania sentendosi in qualche modo accerchiata si unisce all'Austria e all'Italia e insieme formano questa triplice alleanza. In risposta a questo e durante le crisi marocchine e vedendo naturalmente questa Germania stava diventando sempre più potente quindi potenzialmente pericolosa per l'Europa nel 1904 Gran Bretagna e Francia si legano da un intent cordiale che diventerà poi nel 1907 un'intesa questa volta a tre stati coinvolgendo anche la Russia e quindi una triplice intesa. i blocchi sono pronti nel 1907 l'Europa è praticamente schierata in tre grandi blocchi e questa sarà la situazione appunto che troveremo alla vigilia della rivoluzione della prima guerra mondiale e questo sistema di alleanze vedremo che nuocerà moltissimo o velocizzerà il processo di scoppio della prima guerra mondiale. Il 28 giugno del 1914 Gavrilo Princip uccide Francesco Ferdinando e la moglie Francesco Ferdinando era l'erede dell'impero austro-ungarico sarebbe succeduto all'attuale imperatore. A Sarajevo Gavrilo Princip spara due colpi di pistola ferendo mortalmente la coppia reale e ci rendiamo conto che questo attentato è soltanto diciamo l'ultimo momento o probabilmente la miccia che fa scoppiare una bomba che però già da tempo era preparata. Che questo attentato sia accaduto a Sarajevo ha sicuramente un peso politico non indifferente. Che Gavrilo Princip forse legato a un movimento nazionalista riconducibile la Serbia ha sicuramente un suo peso abbiamo discusso in slide precedenti il peso del nazionalismo appunto in questo contesto ma effettivamente ci rendiamo conto che questa fu soltanto l'occasione per far scoppiare un conflitto. e così il 23 luglio 1914 l'imperatore dell'impero austro-ungarico cioè Francesco Giuseppe manda alla Serbia un ultimatum. si era già protetto le spalle chiedendo l'assenso naturalmente all'imperatore Guglielmo II di Germania e questo ultimatum era un ultimatum molto forte non solo nella forma ma anche nella sostanza. Si prevedeva naturalmente l'impegno da parte della Serbia per seguire gli attentatori per seguire naturalmente il movimento nazionalista che aveva armato la mano di Gavrilo e di fatto si lasciava poco spazio pochi margini naturalmente alla Serbia per poter intervenire in maniera diversa e quindi l'obbligo da parte della Serbia di rispettare tutti i diktat imposti dall'imperatore dell'impero austro-ungarico e naturalmente quando parliamo di Serbia parliamo di chi sta dietro la Serbia fatto sta che il 28 luglio del 1914 un mese esatto dall'attentato di Sarajevo l'impero austro-ungarico dichiara guerra alla Serbia e questa dichiarazione di guerra porta con sé un domino che appunto sfocerà nell'inizio del conflitto il 29 luglio infatti Nicola II zar di tutte le russie ordina la mobilitazione generale Nicola II naturalmente mette il suo paese in preallarme perché capisce che ci si sta preparando alla guerra la Serbia naturalmente da sola non può fronteggiare l'impero austro-ungarico e se ancora la Russia ha delle speranze di poter contare qualcosa nei Balcani queste speranze passano da un aiuto diretto alla Serbia il primo agosto la Germania condanna questo atto di mobilitazione generale della Russia ricordiamo appunto che i due paesi confinavano e dichiara guerra alla Russia stessa il 2 agosto la Germania chiede al Belgio il libero passaggio delle proprie truppe i Belgi rifiutano di accettare questa proposta e d'altronde era quasi obbligato il rifiuto da parte dei Belgi perché il Belgio si era dichiarato neutrale come paese la Germania invece voleva passare dal Belgio per attaccare direttamente la Francia il più velocemente possibile e quindi è chiaro che il Belgio non poteva che opporre un rifiuto a questo passaggio consentire il passaggio delle truppe voleva dire in qualche modo schierarsi ma la Germania ormai è pronta al conflitto e il 3 agosto dichiara guerra alla Francia il 4 agosto la Germania invade il Belgio e il 5 agosto la Gran Bretagna dichiara guerra alla Germania per ovviamente quel sistema di alleanze che avevamo già visto in una precedente slide in cui naturalmente un paese della triplice intesa attaccato in questo caso la Francia deve essere aiutato dagli altri paesi della triplice intesa i paesi a essere attaccati per la verità erano appunto due cioè la Russia da una parte e la Francia ma è evidente che il passaggio cioè la dichiarazione di guerra del 3 agosto alla Francia è una dichiarazione che mette in grande allarme la Gran Bretagna e quindi la Gran Bretagna interviene con questa dichiarazione di guerra la Gran Bretagna